Allora, la domanda! Come sta a pensare il tuo ruolo? Guarda, io sono molto felice di aver avuto la possibilità di studiare il processo di vero, sia per chi lo racconto in sé, sia perché ho avuto la possibilità per la prima volta di provare a trasmettere qualcosa da vivo, ossia rompendo appunto quella dimensione che mi è più abituale della televisione. Non so quanti di voi questa sera saranno con noi a vedere lo spettacolo. Quante! Grazie! Ciao! E ho voluto appunto trovare a lavorare su un tipo di... Non di persona, ma di gruppo di persone... La cosa bella di queste cose, per i ragazzi, per cui ciascuno... Abbraccia... Delle cerchie che fanno parte della nostra... Della nostra... Della nostra... Ecco... Enrico è uno di un po' del... Quelle persone che... Che preferiscono far brillare gli altri piuttosto che brillare. Per cui... Appunto ho voluto... Cercare di lavorare sul... Sulla generosità... D'animo... Delle persone... Di queste diverse persone. Oh, thank you! Oh, no! I don't want to be... Applausi! Grazie! 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 Grazie!